Dalle macchine di lusso a Viaggecene, una vera e propria bella vita, però a carico di un'azienda ora fa fallita. Adesso l'imprenditore Aretino è stato scoperto dalle fiamme gialle, per lui sono scattate le manette e dovrà pure pagare le tasse su migliaia di euro di illeciti. Tutto era cominciato infatti la scorsa primavera, quando i finanzieri, al termine di accurate indagini, avevano arrestato l'uomo per appropriazione indebita ai danni di una società nel settore della produzione e commercializzazione di orio e bigiotteria, dichiarata fallita nel 2019 che lo stesso amministrava. Alle fiamme gialle infatti non era sfuggito il tenore di vita dell'imprenditore, non giustificato dagli esigui redditi di lavoro dipendente dichiarati. Così erano stati avviati riscontri, grazie ai quali è stato possibile rilevare che in realtà l'imprenditore attingeva sistematicamente somme dalle casse della società o più semplicemente addebitava sul conto corrente aziendale tutte le proprie spese personali, inclusi viaggi e soggiorni con la famiglia, pranzi e cene in ristoranti, canoni di leasing, spese per l'assicurazione e il carburante di un'auto di grossa cilindrata ad uso esclusivo. Dopo l'iter giudiziario che ha portato all'arresto dell'imprenditore, le fiamme gialle hanno avviato una verifica fiscale, recuperando così a tassazione circa 600.000 euro di redditi mai dichiarati al fisco.